Fondazione Aquila Basket vuole ricordare la figura di Manuel Bobicchio, un giocatore eccezionale che con la sua dedizione allo sport e allo studio ha voluto testimoniare che si può essere bravi sul campo ma anche in aula. Anche quest'anno tutti gli atleti tesserati per società della Dolomiti Energia Basketball Academy potranno fare domanda per accedere alle borse di studio Manuel Bobicchio. La domanda per la borsa di studio andrà presentata entro venerdì 22 gennaio inviando una mail all'indirizzo aquilab-aquilabasket.it e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, copia della pagella, attestazione ISEE da ottenere presso una sede del CAF ACLI che insieme a FIP Trento supporta Fondazione Aquila per ricordare la figura di Manuel. Grazie all'aiuto di ACLI il progetto della borsa di studio Manuel Bobicchio coinvolge tutto il territorio trentino Alto Adige e diventa per noi ogni anno sempre più stimolante. Grazie a tutti i nostri sposti dell'idea di studio Manuel Bobicchio. Grazie a tutti i nostri sposti dell'idea di studio. Grazie a tutti i nostri sposti dell'idea di studio di studio.